finita 2 a 1 2 a 1 siamo 9 e 10 o 9 9 non mi ricordo 9 e 10 comunque 9 e 10 a posto 6 tiri o 6 tiri in porta lui 6 tiri 5 a posto pago fa 17 fa meglio di me pago pago mi hai rotto i coglioni una grattata di palle me ne stai facendo cadere a terra porca madonna mi devi lasciare stare si ha vinto il bologna mamma alessandrini madonna mia perché tengo sulle fotografie squadre lo vettin potendo fotografie jimmy ciao jimmy è morto jimmy ancora vivo ma è femmine ma come fa la pipi alzato la cacca la cacca la cacca la sua pagina la cacca la sbagliata la sbagliata la linea la sbagliata non capisco un cazzo questo non serve a nulla via Dai Pago continuiamo sta quello no no Pago ti devi calma un attimo allora prima cosa mi devi lasciare stare Mi devi lasciare stare parco madonna hai capito No non Maronna mi metto a giampaggio Alessandro E chi è frate Eh ma giù come se tu stanno i verretti però Basta Ma Giugno ma si sa ti puoi chiaro qui ilبرino, non ho sinonto Clip Grazie a tutti